Noi abbiamo l'attività di fotografare un cliente e trovati la polizia locale, un giorno è arrivato noi e tu non puoi lavorare più qui perché dovrai avere il permesso di prendere. Noi abbiamo licenza di polizia a ottobre, costruire di Milano, ambulanti, giriamo, no, praticamente nella piazza o a domani dovrai avere il permesso di prendere. Ma subito così un giorno vai via senza lavoro, senza niente, dovrai lasciare il tuo lavoro, l'attività, come baghiano, l'assale, gli imbis, niente da fare, vai via subito. Lasciate lavorare ragazzi, noi non lo facciamo così, non lo facciamo niente, stiamo qua. Io vabbè, sono arrivato al lavoro 4-5 mesi fa, però ragazzi che devono fare, sono 25 anni, non hanno esperienza di fare qualcos'altro. Io ho 28 anni, mi cerco ad esempio, però loro hanno già 55 più 60, lavorano da 25 anni fa, da 25 anni e non hanno l'esperienza di fare niente. Noi vogliamo soltanto una cosa semplice, lavorare. Per loro noi come artisti di strada, noi non artisti di strada, noi ambulatori di fotografia. Altra cosa, perché due metri loro, voglio due metri dopo, anche questo posto non c'è. Adesso cosa facciamo? Come paghiamo tasso, come viviamo, come paghiamo affitto?